Omicidio di un cognato, quando tu vedi una persona che mangia queste volte di quello che mangi tu, che puoi fare? Lo devi solo uccidere, ti dico la giornata tipo di un cognato, mattina due cornelli, mezzo litro di latte, verso le undici e mezza panino Undici e mezza, no, dodici, l'una, comincia il suo pranzo, antipasto, piatto di pasta, secondo e frutto Ritorna la sera, siccome non aveva mangiato, lui si fa, 300 grammi di passato, ecco, secondo e frutta Ed è magro, che più magro non si può Che ne pensi? Si può fare un giusto? Domanda? Questo si chiama culo Tipo me praticamente Tipo me Tipo Ricky Lai No, è costituzione È costituzione Io li odio Li odio E io mi limito 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 Limito Chi ci vuole su Facebook? Finca la risata è fortissima Ok, stop No, 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 no Grazie.